scusami però il signore quello lungo più franchino ce lo copre se facciamo il filone e la rosetta signori sono le quattro e mezza in ultima e l'altro e due riacquistiamoci pronto? ma perché scusami va bene va bene ma perché? da un 4-9 al centro sportivo io non ho capito una cosa perché andiamo assolutamente capito ora ti vediamo dall'inizio butera 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 vieni da Bolzano butera da Bolzano se devi esagerare non passa più 107 prima la vuoi dire una volta nella tua vita la vuoi mettere qua scusa ma non gli hai messo io volevo mettere messo un orologino quello che io ragazzi durando sta posizionando come è lavorare con Ficarra e Piccone? guarda è bello ma sarebbe molto più bello lavorare solo con Ficarra ok vai 4-5 vedete come è una cosa guarda è bello allora non non 2 часa guarda è ora comunque è non che? movimento ok io glielo avevo detto mettiti mocassini lui no Drei fare sempre le discussione. Excusez-moi. Non, ma sono te mal.